Una vacanza in camper significa massima libertà, essere indipendenti, con le soluzioni per il comfort VEBASTO. Anche i veri appassionati del camper non vogliono rinunciare al comfort, qualunque sia la stagione e l'itinerario. VEBASTO Airtop è la soluzione ideale per il riscaldamento. Questo riscaldatore è facile da utilizzare e può essere installato anche su piccoli veicoli grazie alle dimensioni compatte. Tutti i riscaldatori VEBASTO sono alimentati direttamente dal serbatoio del combustibile del veicolo. L'aria viene riscaldata e distribuita in modo uniforme nella cellula abitativa. La temperatura desiderata viene raggiunta rapidamente e mantenuta costante. Il sensore di altitudine integrato nei modelli Airtop Evo assicura la massima performance di riscaldamento anche al di sopra dei 2200 metri. Cucinare in modo sicuro senza fiamme libere con il piano cottura a gasolio VEBASTO. Una piastra per cucinare e una per riscaldare il cibo o per mantenerlo in temperatura. Design ultra piatto, dimensioni compatte e massima praticità. Il piano di cottura in Ceran è anche estremamente facile da pulire. Benvenuti a bordo di un camper piacevolmente riscaldato. Non importa quanto freddo sia fuori. Il sistema intelligente di gestione della temperatura VEBASTO Dual Top adatta automaticamente la performance di riscaldamento in modo da raggiungere la temperatura desiderata nel più breve tempo possibile e mantenerla costante nel tempo. Prelevando il gasolio direttamente dal serbatoio del veicolo, questo sistema integrato riscalda sia la cellula abitativa che l'acqua sanitaria. Dual Top può essere installato all'esterno del veicolo con un significativo recupero di spazio all'interno. VEBASTO Dual Top assicura a una temperatura costante e acqua calda sempre disponibile. Il boiler integrato da 11 litri è protetto dal gelo tramite modalità anti-freeze. Dite addio alle bombole del gas. Con i riscaldatori a gasolio VEBASTO è sufficiente un'unica fonte di combustibile. Questo significa più spazio, meno peso e niente adattatori. VEBASTO Thermo Top C Motor Caravan è il riscaldatore supplementare ideale per motorhome completamente integrati. Un sistema di riscaldamento tradizionale non consente un adeguato riscaldamento della cabina di guida. Il motivo? Il parabrezza genera una forte dispersione di calore. Grazie a VEBASTO non ci saranno più parabrezza ghiacciati. Thermo Top C Motor Caravan è integrato all'interno del circuito dell'acqua del veicolo e riscalda il parabrezza e i grandi finestrini laterali direttamente attraverso le uscite poste sul cruscotto. È sufficiente premere un tasto e Thermo Top C Motor Caravan non solo riscalda la cabina di guida ma preriscalda anche il motore. Per partenze sicure è un minore inquinamento dell'ambiente anche nei giorni più freddi. Con la sua vasta gamma di soluzioni per ogni tipo di veicolo, VEBASTO è il vostro partner ideale per vacanze all'insegna del comfort e dell'indipendenza. VEBASTO Field Drive